Partenza falsa per l'Agropoli, sconfitto di misura dall'Agracas. I siciliani passano subito all'incasso e mettono in cassaforte tre punti preziosi al termine di un vero scontro diretto per il vertice. Al Guariglia scendono in campo due delle formazioni più accreditate per il primato. La squadra dei mister Pirozzi però subisce più del previsto. Uniche attenuanti le pesanti assenze dei difensori Panini e Ciolli che costringono a scelte obbligate per la composizione dell'undici titolare. L'avvio è promettente per gli agropolesi che sembrano poter dare sin dalle battute iniziali la marcia giusta al match. Ragosta lanciato da Tiscione anticipa tutti, anche l'estremo difensore ospite, ma il suo colpo di testa termina di poco a lato. E ancora all'esterno ad essere poco concreto all'undicesimo. L'Agracas prende le misure e comincia a conquistare spazi importanti guidati a centrocampo da Baiocco. L'ex Juve al diciannovesimo trova libero Bonafini in aria, ma la conclusione attraversa soltanto lo specchio della porta. Al ventiquattresimo è Catania a non trovare il tempo. L'occasione più clamorosa per gli agrigentini arriva sui piedi di Arena, lanciato da Savanarola, che si deve arrendere al leggero tocco del portiere Maiellaro, che deve in corner. L'agropoli Barcole di ancora Maiellaro ad uscire in modo decisivo su Catania, con Baiocco che non trova poi il tocco vincente. Al trentanovesimo la reazione dei padroni di casa, che colpiscono il palo. E Tiscione a far partire un potente tiro, decisivo l'intervento di Lomonaco, con la sfera che termina sul montante. E ancora il portiere siciliano brava ad evitare il gol sull'insuccata di Scognamiglio su azione di calcio d'angolo. Nella seconda frazione partenza al razzo dell'agracas, ma nel momento peggiore l'agropoli trova il vantaggio al nono, con Tarallo di Tessa su corner di Tiscione. La gioia dura poco. Al tredicesimo azione in velocità sulla sinistra di Savanarola, che porta Catania alla rete del pareggio. Al trentasettesimo Baiocco lavora un gran ballone sulla destra e mette al centro dove Savanarola implacabile di Tessa a segnare la marcatura che fisse il punteggio finale.